dal Vangelo secondo Matteo in quel tempo mentre camminava lungo il mare di Galilea Gesù vide due fratelli Simone chiamato Pietro e Andrea suo fratello che gettavano le reti in mare erano infatti pescatori e disse loro venite dietro a me vi farò pescatori di uomini ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono andando oltre vide altri due fratelli Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello che nella barca insieme a Zebedeo loro padre riparavano le loro reti e li chiamò ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono saluto 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 Grazie.